Se volete acquistare crediti passate dal link in descrizione Pagina Facebook, sono italiani, economici, veloci e affidabili Link in descrizione E se vi servono PSN Card, Xbox Gift oppure PlayStation Plus oppure Xbox Gold Potete trovare il link qui in descrizione G2A, sono veloci, sicuri e affidabili Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot Io sono Giovispa dello staff di NMF Benvenuti nella player review di Hernandez Luis Icon con 85 di rating La versione base di questo attaccante messicano Prima di iniziare questa player review Vi invito a lasciare almeno 80 like, un mi piace per questa carta e per questa review A condividere questo video Iscrivervi al canale, a questo canale, al nostro canale Telegram Mettere mi piace alla nostra pagina Facebook E seguiteci su Instagram I link ai nostri social li trovate qui in descrizione Luis Hernandez 85A come primo pro Secondo me la velocità abbiamo 93 in generale 94 accelerazione, 92 velocità scatto E' davvero un giocatore veloce E' in grado anche di effettuare inserimenti molto precisi e puntuali Infatti per me inserimenti è un altro pro E come altri pro abbiamo il piazzamento La finalizzazione che fanno parte del tiro Che in generale è 84 con 86 piazzamento 86 finalizzazione, 81 potenza a tiro 83 long shot Ragazzi dalla distanza e la potenza a tiro non è proprio precisissimo comunque Finalizza molto molto bene Si piazza bene in campo anche grazie al work rates alto medio E vi devo dire che ha 3 stelle piede debole Che per me non sono né un pro né un contro Dimancino qualcosina la fa Però non è nemmeno così scarso Col suo piede debole appunto E come altro pro abbiamo l'agilità Secondo me 91 in carta E' un valore, una statistica più che altro Del dribbling Che in generale è 84 Possiamo comunque ritrovare un buon controllo palla Dei riflessi e una freddezza comunque accettabili E' un dribbling puro interessante Unito soprattutto alle 4 stelle skill Che sono assolutamente un pro L'equilibrio non è dei migliori Ma non è nemmeno così scandaloso Il colpo di testa in carta è interessante 88 elevazioni e 90 precisioni di testa Ma per me non è un pro Ragazzi comunque non l'ho visto saltare più di tanto E non è che la colpisca benissimo di testa Il passaggio è 72 in carta in generale E per me non è proprio un assist man Chissà che Come piccolo contro gli ho dato la forza fisica Abbiamo 64 in carta Il fisico in generale è 68 con 78 resistenza Che è comunque un valore discreto Non proprio un contro Aggressività non è molto rilevante Non è molto forte fisicamente Però qualche spallata la regge Aiutato dall'equilibrio E come altro contro il prezzo Costa all'incirca 255.000 crediti E' un prezzo secondo me alto Perché è una carta con 85 di rating Comunque si è un icon Con tutto quello che volete Però secondo me non li vale 255.000 crediti Basti pensare che con questa cifra Vi potrete portare a casa Tipo un Gomez Tots Ragazzi che secondo me è molto più forte Come tratti cerca di alludere la trappola Del fuorigioco Dribblatore veloce Tiro, pallonetto Specialità, velocista Minaccia aerea Funambolo, cecchino Attaccante completo Rapace Come alternativa Vedi con Bappe 83 Tra le icon Owen 88 Nella nazione Non ce ne sono Come l'intesa Aumentateli Secondo me il tiro Sì la finalizzazione è buona Però gli dovete aumentare Il tiro dalla distanza E la potenza tiro E' una carta da provare ragazzi Tutto sommato Si è un icon Che costa poco Se non sbaglio è una delle icon Che costa di meno in attacco Fa il suo dovere Ragazzi Non è proprio Secondo me un attaccante completo Gli manca il fisico E magari anche un tiro migliore Il gol li fa E il mio voto per questa carta è stato Ed è un 9 meno Quel meno appunto è dovuto alla forza fisica Se avesse avuto più forza fisica Tranquillamente Gli avrei dato anche un 9 pieno ragazzi Dunque la review è giunta alla sua conclusione Ditemi cosa ne pensate di questa carta Di questo giocatore Se vi è piaciuto lasciate un mi piace Un commento Una condivisione Così vi saluto e vi ringrazio Ciao belli Iscriviti al nostro canale Iscriviti al nostro canale